Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare dell'oligopolio alla Bertrand. Come ben sappiamo, l'oligopolio alla Bertrand è il modello monopolistico che studia la competizione tra imprese simultaneamente sul prezzo. Quindi cambia la variabile strategica rispetto all'oligopolio di Cournot, le imprese competono contemporaneamente, ma sul prezzo e non sulla quantità. Abbiamo anche detto che l'oligopolio alla Bertrand è l'unico modello oligopolistico pareto-efficiente e quindi un mercato che alla stregua della concorrenza perfetta non concede perdita di benessere al mercato. In più sappiamo che l'oligopolio alla Bertrand ha valore solo se le imprese sono identiche e vendono un bene omogeneo. identiche vuol dire che hanno gli stessi costi, la stessa funzione di costo marginale e soprattutto producono un bene omogeneo, ovvero un bene esattamente identico e vendibile sullo stesso mercato.